Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne Benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Ecco l'Ancella del Signore Si faccia di me secondo la tua parola Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne Benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, Amen E il Verbo si fece carne E vengi ad abitare in mezzo a noi Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne Benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Prega per noi, Santa Madre di Dio Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo Preghiamo Infondi in noi, oh Signore, la tua grazia Tu che all'annuncio dell'Angelo ci hai rivelato l'incarnazione di Cristo tuo Figlio Concedi per la sua passione e la sua croce Di giungere alla gloria della risurrezione Per Cristo nostro Signore Supplica alla Madonna di Siponto nel tempo della prova O Maria, piena di grazia Madre di Dio e della Chiesa Generazioni di credenti si sono rivolte fiduciose a te Con il titolo di Vergine Santissima di Siponto Guarda, noi tuoi figli In questo tempo di preoccupazione e di sofferenza Per il contagio che alimenta la paura Ostacola le relazioni Ed impedisce la normalità delle giornate Ave o Maria, piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne Benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Ame Tu che sei uscita dalla tua casa Per essere vicina ad Elisabetta Soccorrici nella nostra fragilità Visita i malati Illumina le scelte delle famiglie Ed ottienici dal Figlio tuo Gesù Cristo La liberazione dall'epidemia che ci sta minacciando Ave o Maria, piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne Benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Madonna Santissima di Siponto Veglia sul tuo popolo Dona sapienze ai governanti e dagli amministratori Perché sappiano prendersi cura del popolo affidato alla loro responsabilità Sostieni chi si spende per i bisognosi I volontari Gli infermieri I medici che sono in prima linea nel curare i malati Anche a costo della propria incolumità Ottienici dal Signore la benedizione della Chiesa A partire dai Suoi ministri rendi l'assegno e strumento Della tua luce e della tua bontà Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne Benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen O Maria Consapevoli dei nostri peccati Ci affidiamo a te, Madre di misericordia Accresci la nostra fede Accompagna le famiglie Rinsalda l'armonia tra i genitori e i figli Preserva gli anziani dalla solitudine Fa che nessuno sia lasciato nella disperazione dell'abbandono e dello scoraggiamento Intercedi per i poveri O Vergine Santissima di Siponto Accogli le nostre preghiere E risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di sicura speranza Amen Salve o Regina, Madre di misericordia Vita, dolcezza e speranza nostra salve A te ricorriamo noi essoli figli di Eva A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime Orsù dunque, Avvocata nostra Rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi E mostraci dopo questo esilio, Gesù Il frutto benedetto del tuo seno O clemente, o pia O dolce Vergine Maria Il Signore sia con voi Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo Benediciamo il Signore Rendiamo grazie a Dio Grazie a Dio